È incredibile, è energetico. Come essere lì con Michael durante i suoi concerti. Musica, effetti musicali, luci, impacti incredibili. E la band? Bravissima. Non ci sono parole per descrivere l'emozione. Bello, bello. Non mi immaginavo di trovarlo così. Tutti veramente molto bravi, è un bellissimo spettacolo, bellissime coreografie messe in scena. Szan da medicare. Trane ad un po' Grazie.